Si è svolto lo scorso 13 dicembre presso l'Ordine dei Medici di Cosenza l'incontro che ha visto protagonisti i medici precari aderenti al sindacato Cosmed. Lavoratori sui quali ormai annualmente pende la spada di Damocle consistente il rinnovo di un contratto che spesso avviene all'ultimo momento causando notevoli disagi sia per coloro i quali attendono che per quanti dai medici vedono dipendere le proprie speranze relative alla salute. Messo a repentaglio il diritto inalienabile al lavoro quasi automaticamente viene esposto a rischio anche quello alla salute dei cittadini i quali ad ogni slittamento vedono i propri medici storici svanire nelle maglie di offerte lavorative che quando ci sono costringono i medici a migrare il che impone agli assistiti, nella migliore delle ipotesi l'instaurazione di nuovi rapporti che spesso non agevolano la cura di molte patologie anche se, come spesso accade, i posti lasciati vacanti non vengono colmati da nessuno e questo determina la famosa migrazione sanitaria che, almeno al sud, è un'abitudine difficile da sradicare Mentre il ministro Patroni Griffi conferma l'intenzione di un provvedimento legislativo per tutto il pubblico impiego il sindacato ha ribadito che per la sanità la legge Balduzzi fornisce gli strumenti per la proroga dei contratti a tempo determinato in essere Il notevole impatto mediatico attorno ai provvedimenti legislativi che il ministro Patroni Griffi ha annunciato e confermato nella riunione del 3 dicembre scorso con le Confederazioni Generali non deve essere una scusante per differire la conferma dei contratti a tempo determinato per i dirigenti e i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale Infatti, come ribadito dalla Cosmed nella riunione alla presenza dei responsabili del Dipartimento della Funzione Pubblica in forza del disposto del decreto Balduzzi che recita nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano per il Servizio Sanitario Nazionale la spesa per il personale e il regime delle assunzioni sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario i vi compresi quelli dei dirigenti in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza la proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione in ogni caso non trova applicazione l'articolo 5,4 bis non esistono quindi attuali impedimenti alla proroga di questi contratti non è maiquest skared non è maiaper気va緊 eden parlando confused non è mai effettuato ma ora non è mai studio non è maiける ma non è mai successo ma non è il momento